Allora, buongiorno, siamo al dodicesimo giorno di cammino e siamo qui con l'amico Tiziano Salvaterra, già assessore all'istruzione. Parto oggi da Tione, faccio la Val Giudicarie, arrivo fino a Comano Terme e ne approfitto per passare per un saluto da parte di Tiziano che è appena tornato stanotte da un viaggio a Bucarest, se non erro, a Albania e uno dei suoi grandi viaggi. Ringrazio anche Tiziano per l'ospitalità che ci ha dato ieri perché la cooperativa Ancora ci ha ospitato in quanto c'era un bel gruppo di persone all'incontro serale delle ore 18. Tiziano. Bene, buona giornata a tutti, siamo a Tione, ridente cittadina delle Val Giudicarie che saluta Pimpinato nel suo bellissimo cammino che è un segno per tutti noi di vita che cammina, della politica che cammina in mezzo alla gente, di chi sa porsi al servizio degli altri sacrificando anche il proprio tempo, anche per una campagna elettorale ma anche per una testimonianza di solidarietà che lui da sempre dimostra con le sue molteplici attività a favore di chi fa fatica. Quindi auguri, ti saremo vicini, buon cammino e speriamo che questo ti porti anche ad assumere responsabilità importanti. Grazie, grazie Tiziano.